Ovviamente ci sarà, abbiamo già tanti ospiti per venerdì, vi preannuncio questa cosa qua Che in tanti mi hanno detto anche che vengo e so cantare, hanno detto addirittura Cioè con queste cose assolutamente insensate Puoi sempre sentire il video di San Ten Chan Ah è lui, è signora, la signora San Ten Chan È lei signora, ma non sento un cazzo perché non riesco a far sentire nulla Purtroppo, devo settare meglio lo strampella lì, quella cosa lì Quel programma lì Il signor San Ten Chan è un signore con gli occhieli molto indeligente, lo vedo Però non sentendo nulla, signora Poi vedo che lei fa vedere sempre le dita Cos'è? Una sfida a me che sono senza dita, signora? Cioè guardi, guardi che sfide che mi fa queste sono mancanze di rispetto nei miei confronti Guarda qua, sempre con le dita in vista, guarda, guarda, è schifo San Ten Chan, che fa che mi dissa sempre perché non ho le dita io Intanto hai fatto un tutorial idraulico di 147.000 views E cos'è lo voglio vedere? Cos'è me lo gusto tutto, scusi Che ha fatto? Dove? Ma che cazzo dice, eh? Ah, perché in pratica l'acqua non scende, non scende Non scende, vada signora, mi di che cazzo devo fare Ah, devo togliere quello? Sì? Bravo, cazzo di vita Che ho, ha fatto 147.000 views, mortacci sua Cazzo c'hai lì? Che cazzo, che mega schifo! Ma che cazzo c'hai nel bandino? Ma signora San Ten Chan, ma che è? Ma che vomito! Guarda lì, era per quello Perché ci scatarrava dentro lui Guarda lì che schifo, scatarro nero Vabbè, molto interessante il suo canale, signora San Ten Chan Gli darò un occhio più importante Vabbè che il dissing lì del dito, quello lì è palese Maledetto, maledetto Andiamo avanti, ragazzi, scusate Eh, grazie Eh sì, San Ten Chan, molto interessante Molto interessante Allora, continuiamo sul percorso che stavamo dicendo Che mi stava scoppiando il cervello, mio nonno Eh sì, Demi, mi spiama Era curioso comunque vedere la soluzione Era molto... Intanto salutiamo Tony Tubo Saluto a Cari Gioiai Grazie a tutti Grazie a tutti